Balzano, intanto come stai visto che hai avuto un piccolo contrattempo lunedì? Ma bene, un po' di sofferenza, un piccolo problema al gluteo ma non è niente di preoccupante. Ce l'avevamo anche la settimana scorsa quindi stringiamo i denti e andiamo avanti. A Chiavari ci sarai quindi? Sì, sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro questo è un buon momento dal punto di vista personale? Ma sono felice più che altro perché abbiamo vinto la partita sabato, giocando anche abbastanza bene. e quindi dobbiamo continuare su questa linea perché abbiamo bisogno di fiducia in questo momento. Ecco, proprio da un punto di vista personale che cosa è cambiato? Due presenze da titolare consecutive, sicuramente un ottimo rendimento, Zeeman sta un po' ricambiando le gerarchie? Ma non penso sia una questione di gerarchie, ho sempre detto chi sta bene gioca col mister quindi molto probabilmente in questo momento lui mi vede meglio degli altri e sto giocando io. e ripeto, ho sempre detto che non è importante chi gioca ma è importante il bene del Pescara quindi dobbiamo andare a Chiavari per fare un'altra buona prestazione e chi giochi giochi l'importante è portare a casa il risultato massimo. Ecco, Sebastiani dice che l'obiettivo è quello dei playoff altrimenti sarebbe un fallimento però è un Pescara che sta ancora cercando la sua identità di gioco e soprattutto la continuità. Ho detto anche la settimana scorsa, sicuramente abbiamo un organico competitivo con gli altri quindi l'obiettivo è quello di fare il maggior risultato possibile e i conti si faranno a fine anno per adesso bisogna pensare partita per partita e cercare di portare a casa sempre il massimo. Ecco, tu che conosci bene Zeeman, come mai quest'anno il Pescara quando vince, vince spesso 1-0 e basa la sua forza nelle vittorie più sulla consistenza della fase difensiva e non su quella offensiva. Cosa sta accadendo? Ma non penso sia una questione di Zeeman o non Zeeman. Il campionato quest'anno è molto equilibrato e oltre che ad essere equilibrato abbiamo tanti giovani quindi hanno bisogno di crescere. Molti sono le prime armi con questo campionato che non è assolutamente facile quindi penso che nell'ultima partita si è visto un po' di più il gioco del mister. non riusciamo a concretizzare ma col tempo e col lavoro arriverà anche quello. C'è spazio per rivedere Zeeman l'Andia? Ma sicuramente, sicuramente bisogna lavorare e col tempo i progetti servono a questo.